Musica All'oggi popolari mercoledì cominceranno gli sfratti per coloro che hanno occupato gli appartamenti abusivamente, ma lo scandalo sembra essere dietro l'angolo. Questa mattina è andata in scena l'ennesima protesta davanti al comune di Avellino dove si sono ritrovati alcuni degli occupanti abusivi per i quali quelli dello spratto non è più solo un rischio ma una certezza perché tra due giorni dovranno lasciare gli alloggi. La lista è pronta e comprende anche il nome di Francesco Vivolo che fa una denuncia gravissima. Lei ha pagato per avere le chiavi dell'appartamento che poi ha occupato, appartamento in via De Caprares, però non sa la persona alla quale ha dato i soldi chi è. Non lo so, sono soltanto che sono venuto qua per pagare 2700 euro per avere le chiavi, gli ho dato i 2700 euro e lui mi ha dato le chiavi, ha detto non far uscire questo fatto in bocca a nessuno, se no qui passiamo i quali tutti quanti. Il dipendente è chiuso, mi è venuto a fare la domanda per l'istruzione per avere una casa e lui mi ha detto senza che lo fai che passano 30-40 anni per avere la casa e mi dai 2700 a me e io gli do le chiavi subito, appena mi dai 2700 io gli do le chiavi. Due o tre giorni ho raccimolato i soldi, sono venuto qua, io gli ho dato i 2700 euro e lui subito mi ha dato le chiavi. Mi ha detto che nessuno mi veniva a sfrattare e che comunque dovevo fare l'autodenuncia, che io ho rotto la porta e tutto. Questo accadeva quanto tempo fa? Sei, sette mesi fa, di preciso non me lo ricordo, appena ho fatto l'autodenuncia. Sono subito stati consegnati le chiavi, la mattina e il pomeriggio sono andato ad aprire l'appartamento, tutto qua. Ed ora rientri tra le persone che rischiano? Sì, ora rientro tra le persone che rischiano tutto. In più nella casa non ci stanno né riscaldamenti né niente, non ci sta nemmeno la caldaia. Sono venuto a fare la domanda per la caldaia e mi hanno detto no, di arrangi, riscaldamenti di arrangi. Ti ricordi almeno a che piano sei andato quella mattina? All'assignazione all'oggi, all'ufficio dell'assignazione all'oggi. Marco D'Acunto, sciopero della fame per lei e il segretario dell'UGL, sciopero d'ostranza per i lavoratori per una situazione che non si smuove al momento? Si, sono che non si smuove mai dal 23 marzo e ormai i lavoratori sono alle strette, non ce la fanno più, non possono nemmeno mettere la benzina per venire a lavorare. È una situazione che ha dell'incredibile in questa provincia, in questa nazione, l'unica vertenza in Italia in cui i soldi per pagare i lavoratori ci sono e restano bloccati per minate impienze della direzione generale, dell'azienda che ha l'appalto di questa esterna direzione del servizio. Noi chiediamo uno sblocco immediato della situazione con un atto di responsabilità da parte della direzione del Moscati che paghi i lavoratori direttamente anche bypassando l'eventuale ok dell'Inps. L'avvocatura dell'azienda però dice che il passaggio che chiede lei non è possibile farlo. L'avvocatura dell'azienda ha consentito che per otto mesi questi lavoratori fossero pagati da un'altra azienda che non è la vincitrice dell'appalto, quindi se i casini li hanno fatto prima pregassero a farli anche adesso. Noi con l'azienda abbiamo smesso di parlare dal 28 di luglio quando insieme all'azienda abbiamo fatto una serie di passaggi che però a due mesi e mezzo di distanza non hanno portato nessun risultato. A questo punto diciamo basta, abbiamo necessità di atti concreti e gli atti concreti per noi sono esclusivamente l'arrivo dei soldi sui conti correnti bancari di questi lavoratori. Gli agenti della Polizia Stradale di Avellino sotto sezione di Grotta Minarda da seguito di un'attività info-investigativa hanno accertato che lungo la tratta autostradale Napoli-Canosa avveniva una fiorente attività di traffico di sostanze stupefacenti del tipo marihuana, droga che dalla Puglia veniva trasportata verso la provincia di Napoli. Le indagini hanno permesso di stabilire che per ieri era stato programmato un trasporto di marihuana a bordo di una Fiat 500L di colore nero preceduta da una Fiat punto grigia che faceva da staffetta. Di conseguenza è stato predisposto un articolato servizio di monitoraggio lungo il tratto di autostrada. Intorno alle 21.30 le due auto a velocità sostenuta sono state intercettate nei pressi del casello autostradale di Vallata. Inseguite da due pattuglie, i veicoli sono stati bloccati all'altezza del comune di San Sossio-Baronia. Durante il controllo dei documenti, i conducenti delle due vetture sono apparsi nervosi. L'approfondito controllo ha permesso di scoprire il carico nascosto nel bagagliaio della 500. La marihuana era contenuta in due sacchi di nylon con all'interno 28 involucri, avvolti in carta di cellofan contenenti la sostanza stupefacente per un peso di circa 50 kg. Il valore complessivo della sostanza sequestrata al dettaglio è di circa mezzo milione di euro. I due uomini, un 42enne di Sant'Antonio Abate ed un 45enne della zona di Lettere, sempre nella provincia di Napoli, sono stati arrestati mentre sono in corso ulteriori indagini per identificare eventuali componenti di un'organizzazione dedita al traffico di sostanze su vasta scala. Prima il cedimento dell'asfalto, poi le piogge sempre più abbondanti di questi giorni. Quella apertasi al centro della strada che da Picarelli sale verso Montefredane è una vera e propria voragine che altrove in Italia sarebbe stata già sistemata e in pochi giorni denunciano i residenti del quartiere e gli automobilisti in transito diretti ad Avellino o a Capriglia, Montefredane e Grottolella. Nonostante i cartelli che segnalano il divieto di transito e deviazioni per il traffico, tutto scorre regolarmente ma il pericolo è in curva. Le recensioni della buca restringono la carreggiata, chi si avventura in salita senza conoscere la strada rischia di andare a sbattere a forte velocità nella cunetta o, peggio ancora, di imbucarsi nella voragine. Peggio ancora va per gli autobus di linea o i mezzi pesanti che ormai non riescono più ad attraversare quel tratto di strada, ma che incuranti dei cartelli viaggiano spediti, prima di brusche frenate che mettono a repentaglio l'incolumità di passanti ed automobilisti. Fate presto, prima che la prossima pioggia porti via tutto, pure la segnaletica e ricoprendo quel buco d'acqua creerà seri pericoli e l'appello che arriva da Piccarelli e che volentieri giriamo agli organismi competenti. Il governatore Vincenzo De Luca ha vinto la partita del risanamento ambientale in Campania. Più correttamente ha vinto il primo tempo, quello dell'approvvigionamento delle risorse finanziarie. Aveva chiesto al governo centrale almeno 500 milioni di euro per il capitolo genericamente intitolato alla rimozione delle ecoballe e tanti ne avrà, come il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, gli ha confermato nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi. C'è di più, il provvedimento del governo sarà reso operativo con un decreto, non un impegno indefinito nel tempo dunque, ma soldi veri e subito. Nel dettaglio 100 milioni all'anno per 5 anni, con l'avvio dell'intervento già in questo scorcio di 2015. Tutta l'operazione sarà gestita in collegamento diretto con la Presidenza del Consiglio. Altro dettaglio importante, richiesto dallo stesso De Luca, per le gare d'appalto e tutto quanto vi è connesso, ci sarà il pieno coinvolgimento dell'autority dell'anticorruzione. Circa le fasi dell'operazione, l'orientamento è di cominciare dai siti minori di stazionamento delle ecoballe, che sono più facilmente aggredibili, per poi concentrarsi su terra dei fuochi, dove giacciono ben 4 dei 6 milioni di ecoballe da sbattire. Per quanto riguarda la provincia di Avellino, come è noto, il sito di stazionamento delle ecoballe è a Piano Tardine, nell'area del CDR. Sono cominciati gli sfratti stamane. Vigili urbani, polizie e vigili del fuoco si sono recati a Rione Mazzini, via Cianni e Contrada Quattrograne. Non sono mancati i momenti di tensione, quando al secondo sfratto la donna che era in casa ha minacciato di lanciarsi dalla finestra. Si tratta di una giovane madre con un figlio di 7 anni e settima in graduatoria per un'assegnazione. La donna fortunatamente si è poi calmata ed è stata convinta a lasciare l'alloggio. A Contrada Quattrograne sono arrivate numerose persone, anche occupanti di altre zone della città, alcuni dei quali hanno annunciato che non hanno alcuna intenzione di lasciare le abitazioni. Signora, sono cominciati gli sfratti, adesso qual è la paura? Niente, che andiamo in mezzo alla strada con dei bambini minori, non sappiamo proprio cosa fare. C'è un altro po' che nasce un'altra bimba e come dobbiamo fare? Vogliamo un'aiuto dal sindaco, se ci può mettere pure da qualche parte, perché così proprio non possiamo stare in mezzo alla strada. Le fa parte di coloro che hanno occupato in maniera abusiva? Sono abusiva, sì. Sono abusiva delle palazzine che non hanno voluto, hanno rifiutato, perché c'era il lamianto. Io ho avuto il bisogno e l'ho occupata. Visto che era chiusa, ho sfondato la porta e sono andata dai carabinieri, mi sono andata a tutelare. Sono separata, il lavoro non ce l'ho purtroppo, ho sfondato la porta e sono entrata. Adesso sono tornata all'ospedale e a giorni devo partorire, non so proprio come fare. E se vengono e mi buttano fuori, con due bambini già che ho e uno nel rifiuto, questo. Io sono una segnataria, però dispiace per tutti quanti quelli che si sono buttati dentro. Se erano altri, la magistratura li doveva cacciare là per là. Adesso è troppo tardi, hanno pagato bolletti. Abbiamo pagato bolletti, abbiamo pagato, abbiamo i problemi, abbiamo i figli, non lavoriamo. A me se vengono a casa mia, non vengono perché sono brutto ostinato, faccio i numeri. Ho anche mia moglie che non sta bene, che ha rispetto un bambino e ce l'ha perso uno. Se vengono a casa facciamo i numeri, faccio i numeri di tanta altra gente sul comune che ha fatto i babbà e ora vanno in paura. È giusto, è la verità. Per me è sbagliato chi ha cacciato fuori a sti baggiù. Non è che noi ci abbiamo preso una cosa, siamo pieni di problemi, non lavoriamo, siamo proprio pieni di guai. Succede qualcosa di brutto, io già ho paura, già non so cosa fare. Sono quattro anni che vi, pago tutto, ho anche la residenza, ho tutto, dopo quattro anni mi vuoi cacciare fuori. Ma non ti è stata ancora assegnata la casa, ho capito bene? No, non mi è stata ancora assegnata, da quattro anni però, non è da ieri, sono quattro anni. E tu mi vuoi a cacciare fuori. Ho speso i soldi, l'ho aggiustata, la casa che faceva schifo. Ho le foto di com'era e di come sta ora. Sannio Irpinia, nel vortice del maltempo, ci sono anche due vittime, danni ingenti, la protezione civile messa a dura prova. E la cronaca in sintesi di 12 ore di devastazione e paura provocate dalle bombe d'acqua sul territorio delle due province. Ma veniamo ai dettagli partendo dal Sannio, la zona più colpita. Per fronteggiare l'emergenza è in arrivo l'esercito, così il sindaco di Benevento, Fausto Pepe, che parla di un'intera città martoriata. La zona alta, con detriti e smostamenti, spiega, mentre la zona bassa è sommersa dall'acqua, per le esondazioni dei fiumi Calore e Sabato. Stiamo lavorando per arginare prima i danni alle persone. L'acqua ha travolto diversi quartieri del comune, portoni a garage bloccati da acqua e fango, residenti, prigionieri in casa, auto travolte e pali della luce, sommersi, chiuse scuole e tangenziali. A Benevento c'è stato anche un blackout che ha lasciato gran parte della città senza energia elettrica. A perdere la vita una settantenne che viveva da sola in località Iscalanuce. La donna si è impaurita, vedendo le strade ridursi a torrenti, forse ha temuto di essere sorpresa nell'abitazione da uno smottamento ed uscita di casa nel cuore della notte durante il nubifraggio, venendo trascinata a valle dall'acqua messa a fango. Il suo cadavere è stato trovato questa mattina dai carabinieri. L'altra vittima è un pensionato di Monte Sarchio, morto a causa di un valore, mentre cercava di liberare dall'acqua e dal fango un suo deposito, è stato colto da infarto ed è deceduto. La situazione nel Beneventano è ancora molto critica. I violenti nubifraggi che hanno colpito la città e la provincia di Benevento hanno causato vittime e danni ingentissimi alle abitazioni e alle imprese del posto. Chiedo al governo di dichiarare lo stato di emergenza con un provvedimento che serva a garantire aiuti immediati e diretti alle popolazioni così duramente colpite. Lo afferma Angelo D'Agostino, deputato e vicepresidente nazionale di Scelta Civica. Ci sono intere famiglie, prosegue il parlamentare, costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa delle esondazioni dei fiumi. Critica la situazione a causa di smottamenti che hanno invaso strade e centri abitati, arrecando danni a numerose aziende del posto. È evidente che la presenza dei militari annunciata dal sindaco non basta. Il governo adotti subito un decreto legge che sulla scia di quello già varato per Parma e Piacenza consente ai sanniti e alle loro aziende di risollevarsi dai danni arrecati dall'ondata eccezionale di maltempo. Le luci dell'alba hanno lentamente riportato l'Irpinia alla normalità dopo una notte di paura. I disagi hanno riguardato territori a ridosso di fiumi e torrenti. Da Volturara a Serino, passando per Casalbore e Monte Calvo, la piena d'acqua e fango ha provocato allagamenti di garage, scantinati ed abitazioni. Traffico a rilento questa mattina lungo la vecchia Ofantina. Alberi, rami e pietre hanno costretto le auto a passo Duomo per la presenza dei detriti sull'asfalto. Ad Avellino e dintorni sono sempre le stesse aree a dare problemi smottamenti sulle colline a Tripaldesi di San Gregorio. Via Francesco Tedesco, nel capoluogo, è stata invasa da 50 centimetri d'acqua per l'assenza a Rione Parco di un sistema fognaro efficiente. A Piano Dardine è sonda il sabato e crea difficoltà di collegamento stradale. Via Fontanatetta e Borgo Ferrovia sono state minacciate da una colata di fango. La buca di piccarelli, o per meglio dire la voragine, segnalata dai nostri telespettatori, è ancora lì. Stanotte era sommersa d'acqua insieme alle barriere che la proteggono. È andata bene. E' assai probabile che il governatore De Lucca ed il suo predecessore Caldoro continueranno a raccontarci due verità diverse sui fondi strutturali europei. Ma una cosa è certa. Il commissario europeo per le politiche regionali, Corina Cretu, ha ripetuto che Campania, Sicilia e Calabria accusano ritardi notevoli e che il rischio che si perdono risorse c'è ed è grande. Ciò detto, la buona notizia rispetto alla programmazione 2014-2020 è che entro oggi l'intera programmazione sarà consegnata a Bruxelles. Ad assicurare il governatore De Lucca, il quale non manca di sottolineare che in due mesi è riuscito a recuperare un anno e mezzo di ritardi accumulati dalla precedente giunta. Una stoccata a Caldoro, appunto, che non mancherà di replicare rinviando al governo centrale dai vincoli del patto di stabilità, le cause di ritardi e perdite di risorse. Tornando ai fatti, da quel che è dato sapere, il programma presentato dalla Campania è un'operazione da 4 miliardi e 113 milioni di euro, un'operazione che si snoda lungo quattro direttrici, trasporti, impresa, ricerca ed energia. Un miliardo sarà destinato al risanamento ambientale, che per De Lucca resta la priorità assoluta, soldi che andranno ad aggiungersi ai 500 milioni già promessi dal governo italiano per la rimozione delle ecoballe. Altra quota rilevante è riservata alle opere pubbliche nei comuni, con un'attenzione particolare anche qui alla salvaguardia ambientale, dunque interventi che riguarderanno soprattutto reti fognarie e acquedottistiche ed impianti di depurazione. Naturalmente siamo al programma, che come tutti i programmi dovrà poi essere attuato. Sarà quello il vero banco di prova del governo regionale De Lucca. Torna a splendere il sole sulla città di Benevento e nei comuni della provincia, duramente colpiti dall'alluvione che ieri ha interessato tutto il territorio sannita, causando due morti e gravissimi danni. Questa mattina sono decine e decine volontari e non solo della protezione civile al lavoro per spalare fango e detriti dalle strade. Tra questi anche i tifosi del Savoia Calcio, gemellati con i tifosi del Benevento, i giocatori del rugby della squadra locale e molti forestieri. Il giorno dopo è il momento della conta dei danni, mentre imperversa ancora la polemica. Questa mattina il sindaco di Benevento Fausto Pepe a Rai 1 ha descritto la drammatica situazione della sua città. Siamo impegnati ad affrontare l'emergenza dei cittadini sfollati, rimasti senza casa, dei piccoli commercianti che non hanno più la loro attività e di coloro che pur avendo la casa sommersa dal fango non vogliono lasciarla. Il sindaco Pepe ha tenuto a sottolineare di non essere stato avvisato adeguatamente. Bollino arancione, sì abbiamo ricevuto tutti la comunicazione della protezione civile, ma il colore arancione tradotto significa piogge moderate e non certo alluvione, quella che invece ha colpito e distrutto la città di Benevento e la metà dei comuni della provincia. Per quanto riguarda l'agricoltura si contano milioni di euro di danni, la coltiretti Campania sta seguendo con preoccupazione l'evolversi della situazione. I danni infatti in questo caso non riguardano solo il capoluogo Sannita, sicuramente il più colpito, ma anche le province di Avellino, Caserta e Salerno. Si stanno monitorando i territori e i danni sono evidenti a causa dello straripamento di fiumi e torrenti. Si sono allagati i vigneti, i noccioleti e i castagneti. Alle istituzioni viene chiesto un intervento veloce ed urgente. I più ottimisti parlano di un semplice rinvio. I realisti dicono chiaro e tondo che ancora una volta il mezzogiorno è stato lasciato ai margini delle politiche governative. I possibilisti, tra i quali c'è il deputato Irpino D'Agostino, sostengono che bisogna incalzare il Presidente del Consiglio, non arrendersi, pretendere che il mezzogiorno occupi un posto dignitoso nelle strategie politiche del governo. Per ora c'è un dato di fatto. La manovra da 27 miliardi varata ieri dal Consiglio dei Ministri è deludente, almeno per le aspettative del Sud. Il Premier si è impegnato a far scendere le tasse per le imprese, ad eliminare IMU e Tasi, e non è poco, ma la svolta che il mezzogiorno attendeva non è arrivata. Sono stati confermati alcuni annunci della vigilia, come gli interventi per la rimozione delle ecoballi in Campania, anche se nel giro di 24 ore le risorse sono scese da 500 a 450 milioni, o come il rilancio di Bagnoli, ed era ora, o il completamento dei lavori della Salerno-Reggio Calabria, anche questa roba vecchia, o infine il fondo di garanzia per l'IRBA di Taranto. Punto. Non c'è traccia, nella manovra, di misure ad hoc per il Sud come il credito d'imposta, mentre resta per tutto il territorio nazionale la decontribuzione per i nuovi assunti, ma con una drastica riduzione del beneficio di ben il 60%, per cui il tetto di scondo sui contributi scende dagli 8 mila euro del 2015 a circa 3 mila e 500 euro per il 2016. Una cifra regalo che può star bene alle imprese del nord e del centro, ma che molto difficilmente stimolerà numeri significativi di nuove assunzioni nelle imprese del Sud. La battaglia si sposterà ora in Parlamento, ma con il solito voto di fiducia in agguato non sarà semplice far valere le sacrosante ragioni del Sud, a meno che i parlamentari del Mezzogiorno, di ogni versante politico, e a cominciare da quelli del PD, non abbiano un sussulto corale d'orgoglio. È un terremoto giudiziario di magnitudo elevata ed onda lunga quello che si abbatte sul comune di Avellino. Due funzionari sono in stato di fermo con l'accusa di corruzione in concorso. Uno si trovava all'Expo di Milano ieri sera quando è stato raggiunto dagli agenti della squadra mobile, il secondo era in un paese della provincia di Benevento. I magistrati hanno ipotizzato per entrambi un pericolo di fuga, di qui la firma del provvedimento che ora li costringe nelle carceri di San Vittore e del capoluogo Sannita, in attesa di un interrogatorio di garanzia. Sulla base degli elementi di indagine raccolti e coperti dal massimo riservo, il giudice dovrà decidere sulla scarcerazione o meno. La vicenda esplode con l'autodenuncia resa alla stampa da Francesco Vivolo solo cinque giorni fa. Anche ai microfoni di Prima TV dichiarava di aver pagato 2.700 euro a due impiegati del comune per entrare in possesso di un alloggio destinato a legittimi assegnatari delle graduatorie comunali. I riscontri alle dichiarazioni sono stati eseguiti dai vigili urbani e dalla questura velinese in tempi record, ha sottolineato in conferenza stampa il procuratore Cantelmo. Per la procura non si tratterebbe di un episodio, ma di un fenomeno ampio e radicato. L'inchiesta fa tremare molti. Nessuno indossi medagli, ha tuonato il capo della procura. La vicenda evidenzia uno squallore morale che prima d'oggi non era mai stato denunciato. Una frase sibillina che rimanda ad altre responsabilità nella gestione della cosa pubblica. L'inchiesta dunque è destinata ad allargarsi. Cantelmo ha fatto pure riferimento a non meglio precisate intimidazioni che sono al vaglio. I funzionari, ha specificato il procuratore, potrebbero addirittura essere soltanto terminali di un sistema più ampio. Anche il questore Ficarra nel commentare alle indagini ha espresso un senso di profonda amarezza per il mancato controllo del potere amministrativo. E la plastica dimostrazione ha dichiarato ancora Cantelmo che le politiche sociali sono a beneficio degli operatori e dei loro tornaconti. Poi il messaggio finale di investigatori ed inquirenti rivolto ad altri potenziali soggetti coinvolti. Chissà parli, lo Stato è pronto a dare risposte concrete. Al momento non risulta indagato l'autore della denuncia, ma le dichiarazioni di Francesco Vivolo sembrano aver scoperchiato il vaso di Pandora e il terremoto giudiziario avrà sicuri sviluppi e ripercussioni. Grazie per la visione!